Forse ti sei chiesto perché ti senti così solo nel tuo cammino. Magari hai litigato con i tuoi amici di vecchia data, oppure hai perso il contatto con i tuoi parenti. Non è che ora ti stiano antipatici, ma è come se non desiderassi veramente stare in compagnia di nessuno. Quando sei con loro provi tutta una serie di emozioni. Tutto sembra semplicemente spento e l'unica cosa a cui riesci a pensare è all'idea di rientrare a casa per stare da solo. Se questo ti suona familiare, non c'è nulla di sbagliato in te. Non stai rinunciando a nulla in questo momento. Durante il nostro viaggio spirituale, stare da soli è necessario. Se ami te stesso, apprezzerai la tua compagnia. Osho Stare da soli richiede un coraggio immenso Ed è per questo che così pochi individui sono stati in grado di scavare in profondità nel loro io più profondo. Il viaggio si fa in solitudine e la meditazione può prepararci ad affrontarlo. Attraverso la meditazione, l'isolamento può trasformarsi in solitudine. Questa trasformazione è la magia della meditazione. E c'è una grande differenza tra isolamento e solitudine. L'isolamento è negativo. Si sente come una ferita, un buco nero dentro di noi che provoca dolore. Desideriamo coprirlo e fuggire da esso. O stare con qualcun altro per dimenticarlo. La solitudine Può essere la sensazione di sentire la mancanza di un'altra persona. Ma dall'altra parte, la solitudine può anche essere il piacere di stare con se stessi. Lo scopo della meditazione è trasformare i sentimenti negativi in positivi. Trasformare l'infelicità in gioia. Una volta sperimentata la gioia di essere soli e la bellezza della solitudine, si può intraprendere il viaggio con gioia. Ogni momento diventa più incredibile e sorprendente. E la gioia continua a crescere. Magari pensavi di essere arrivato alla fine, ma c'è sempre qualcosa in più da scoprire. Un uomo che è solo è sempre in buona compagnia. Osho Quando ti avvicini al tuo io più profondo, il tuo comportamento verso gli altri subisce una trasformazione. Diventi più amorevole, comprensivo, calmo e amichevole. I tratti negativi, come l'avidità, la rabbia, la gelosia e la possessività, diventano meno evidenti. È come lo sbocciare di un fiore, una canzone e una danza nella tua vita. Quando si raggiunge il centro del proprio essere, si ottiene la conoscenza che vale la pena avere. Conoscere se stessi equivale a conoscere tutto. Il Sé Supremo è il nome di questo nucleo interiore, che non è lo stesso del proprio Sé guidato dall'Ego. L'Ego scompare e tu rimani ai margini esterni. Sei presente, ma in un modo nuovo, libero dall'Ego. Questo è il significato del Sé Supremo. Sperimentare il proprio essere in uno stato di entusiasmo. Molte delle convinzioni e delle percezioni che hai non sono veramente tue. La società, così come gli amici e la famiglia, hanno influenzato il tuo modo di pensare. La solitudine ti permette di renderti conto di questo e di interrogarti sul perché pensi in quel modo. Non sei fatto per seguire la folla. Hai il potenziale per essere un leader. Tuttavia, la tua educazione potrebbe aver soffocato questa consapevolezza. L'isolamento ti permette di andare dentro di te e diventare consapevole di ciò che sta accadendo dentro di te. È l'aspetto più importante della crescita personale. Quando si è soli, si è costretti ad affrontare i propri problemi e a trovare soluzioni da soli. Questo processo può essere difficile perché implica rivivere e rilasciare i traumi del passato e cambiare gli schemi di pensiero. Tuttavia, l'universo ti ha dato l'opportunità di creare la vita che desideri, costringendoti a rimanere da solo. Cerca di capire che il cambiamento è necessario per diventare la persona che vuoi essere. Una nuova vita richiede un nuovo ambiente, nuove convinzioni, nuovi modi di pensare e di percepire il mondo. Questi cambiamenti possono essere scomodi, ma stanno avvenendo per un motivo. Ti avvicineranno al futuro che desideri. Quando sei solo, puoi ascoltare il tuo cuore e il silenzio del tuo cuore ti aiuterà a conoscere te stesso. Osho Uno dei motivi per cui potresti ritrovarti a essere da solo durante il tuo cammino spirituale è quello di recuperare e incarnare la tua energia spirituale. Spesso cediamo involontariamente la nostra energia agli altri e gli individui tossici possono addestrarci facendoci sentire impoveriti e indegni. La solitudine ci offre l'opportunità di riprenderci la nostra energia e di rompere i legami energetici tossici con le persone che in passato si sono approfittate di noi, compresi gli amici o i familiari. Molte persone spirituali crescono con la convinzione di dover dare via la propria energia per essere accettate, il che può portare a compiacere le persone e ad aumentare la capacità empatica. Tuttavia, una volta che ci riappropriamo della nostra energia e impariamo a mantenerne il controllo, diventiamo incredibilmente potenti. Inoltre, un altro motivo per essere soli nel cammino spirituale può essere il fatto di essere stati scelti. Molte persone passano tutta la vita senza scoprire il loro vero dono spirituale. Il dolore della guarigione durante questo viaggio vale la pena e il risultato finale è inestimabile. Alcune persone non raggiungeranno mai la conoscenza e l'esperienza che tu riuscirai ad acquisire, compreso l'essere presenti e il sentire l'amore dell'universo. Imparerai a manifestare e alla fine sperimenterai le emozioni che tutti gli esseri umani desiderano, l'amore incondizionato e la liberazione dal dolore. È essenziale essere grati per l'opportunità di avere un risveglio spirituale in questa vita, poiché ci si trova sulla cuspide di un'incredibile trasformazione. Con l'universo e Dio dalla tua parte, hai tutto il sostegno di cui hai bisogno. Nel corso della storia, i ricercatori hanno cercato la solitudine per affrontare se stessi. È più facile farlo da soli, perché le relazioni con gli altri possono complicarsi quando vengono a galla anche i loro problemi e le loro difficoltà. La tua vera natura è quella della solitudine, ma l'abitudine a far parte di una folla è diventata così forte che potresti non essere consapevole di questa natura. La paura di rimanere soli nasce dal fatto di non sapere chi sei se tutti ti abbandonano, poiché sono le opinioni e le percezioni degli altri a creare la tua identità. Potresti trovarti fisicamente solo, ma scoprirai una connessione profonda che trasformerà la tua vita. Questo viaggio spirituale emila a rafforzare il tuo rapporto con il Dio divino e con l'universo. Attraverso questo processo ti connetterai con il tuo vero sé e capirai che non hai più bisogno di nessun altro per sentirti completo. Le emozioni e i sentimenti che un tempo cercavi negli altri sono già dentro di te. Tu sei l'amore e non avrai bisogno della convalida di nessun altro. La felicità e la soddisfazione arriveranno dall'interno del tuo essere. Stando da solo, scoprirai il tuo incredibile potere e la tua capacità di manifestare i tuoi desideri. Questa conoscenza arriverà nei momenti più bui della tua vita, quando sarai da solo. Quindi, invece di chiederti perché devi affrontare tutto quello che stai vivendo da solo, accogli l'opportunità di creare la vita che vuoi. Il dolore e la solitudine sono benedizioni che ti permettono di svilupparti in un essere cosciente più potente. Non rinunciare a te stesso. Tutto sta funzionando per te. E starai bene.